Sono passati 15 minuti circa, forse anche meno se non lo saprei dire con certezza e le montagne già non si vedono più sta piovendo, alla grande... no, alla grande no però, insomma, già non si vedono più le montagne cioè vorremmo andare al serro amico o no? non lo so, magari arriviamo al serro e non si vede niente siamo nel Bolson, come prima, prima mi sono dimenticato di dirlo e questo è Plaza Pagano è un po' un misto tra inditudine, argentinitudine operas de artitudine e questo è il laghetto è qualcosa di spettacolare probabilmente era vuoto un paio di settimane fa e adesso è di nuovo pieno visto che la pioggia che ha fatto queste due settimane da quanto mi hanno detto sotto la pioggia da una settimana soltanto quindi un'altra settimana ci credo visto che non ho beccato tanta come si può dire il Bolson non ha una terminale però quella lì in fondo è l'officina di turismo lì c'è la posta e qui è asciutto e quindi mi fermo qui per fare un'ultima parola amica della piazza buono bye bye ciao